È un legame con la natura che nasce dal basso, questa sfida ci piace molto, l'abbiamo colta volentieri e quindi questo festival diventa un po' l'ambasciatore del parco della natura con tutti i suoi personaggi. Quest'anno lo dedicheremo soprattutto agli ambasciatori con la presentazione di un libro su questo tema e alcuni personaggi che verranno anche dentro il parco a fare delle cose speciali. Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e della Verde Vallata del Casentino l'edizione numero 7 di Naturalmente Pianoforte porterà musica, cultura, arte e tanto altro. Il festival nato a Prato Vecchio Stia adesso toccherà tutte le località della Vallata. Siamo alla settima edizione, è un'edizione molto particolare perché ci permette di raggiungere un po' l'obiettivo che ci avevamo dati fin dall'inizio che era quello di far diventare Naturalmente Pianoforte una manifestazione di Vallata. Quindi quest'anno per la prima volta andiamo a toccare tutti quelli che sono i comuni appunto della Vallata Casentinese. Ci saranno delle grosse novità perché non sarà soltanto musica ma avremo arte, avremo fotografia, avremo pittura, avremo una nuovissima carovana che si muoverà per tutta la Vallata Casentinese appunto che sarà una cosa abbastanza particolare, avremo le masterclass che abbiamo sempre avuto, quindi una manifestazione veramente completa. Ad aprire la manifestazione saranno Paolo Iannacci e Frida Bollani Magoni il 17 luglio a Bibbiena, un incontro tra due talentuosi artisti che nasce dalla volontà di mettere in comune la loro poesia. Il 20 luglio arriverà poi Eugenio Finardi ma non solo musica, ci sarà spazio anche per il trekking. Il festival quest'anno aggiunge infatti una novità, naturalmente carovana. La carovana è la proposta di affacciarsi a questa tavolata con uno stile diverso, ovvero sia andando a piedi. Davanti a una tavola bisogna fare delle scelte, non si può mangiare tutto, pena il rischio di indigestione e di stare peggio dopo invece che meglio. L'idea quindi è di nutrirsi a passo d'uomo come la natura spesso ci invita a avere un ritmo lento e quindi noi ci muoveremo lungo il festival e quasi esclusivamente a piedi. Il festival ci accompagna non solo perché ogni sera troveremo dei concerti e delle proloco che ci ospitano e che ci offrono le ricchezze enogastronomiche del territorio, oltre che la loro voglia di relazione con noi, ma anche perché il parco e gli altri enti che vi ho detto all'inizio hanno messo delle risorse perché con la carovana camminassero degli artisti e quindi durante il cammino faremo delle tappe artistiche. In buona parte saranno dedicate fra l'altro alla memoria. Quest'anno sono 80 anni dalla linea gotica, da molti episodi tristi che ci sono stati, ma alcuni anche eroici in realtà. Ne faremo memoria non come una processione che va a fare una cronaca, ma cercheremo proprio di rientrare tramite il teatro, tramite la musica in questo tema perché la memoria non è un cippo che la conserva. La memoria la conserva la nostra capacità di emozionarci, di portare nel cuore alcune cose. La carovana vuole essere un invito a far scendere nel cuore delle emozioni per sedimentarle e magari diventare un pochino migliori.